Collaborare con Piri Farina significa l'incontro di due grandi realtà italiane, un grande designer e un grande prodotto di penne in quale vi scontri. Collaborare con Piri Farina per noi vuol dire far parte di un network di eccellenze italiane che hanno la volontà di creare qualcosa di bello che duri nel tempo. L'ispirazione è nata dall'idea di unire in un unico prodotto, icona, moda e design, in modo che si fondessero in un connubio dorato di pura artigianalità, stile e design and made in Italy. Baracca nei suoi gioielli ha sempre voluto raccontare e quindi poter raccontare 85 anni di storia per noi era un progetto che non potevamo perdere, anche perché abbiamo potuto raccontare grazie ai nostri gioielli i valori fondamentali sia di Piri Farina che di Baracca. Il nostro oggetto icona si chiama Forever Piri Farina Cambiano. È uno strumento di scrittura realizzato artigianalmente in Italia la cui particolarità è avere una punta metallica che non utilizza né graffite né inchiostro. Quindi non possiamo dire che è una penna, non possiamo dire che è una matita. Lei semplicemente ossida la carta. Il nostro oggetto icona è un occhiale realizzato con una fusione di alluminio con dei particolari in oro. Abbiamo ripreso un vecchio modello della lozza, un modello di grande successo negli anni 70 della lozza e l'abbiamo interpretato con la moderna tecnicità della Piri Farina. Piri Farina è un'icona della ricerca. Eleganza è narrazione dello stile italiano. Esclusività e innovazione. Design assolutamente ricercato. Di eccellenza e di italianità vera. Grandissima passione. Piri Farina è l'ambasciatore dell'italianità nel mondo.